La preghiera silenziosa davanti al Santissimo Sacramento, la lettura di alcuni salmi e di due poesie che raccontano il desiderio che tra le pieghe di un'umanità ferita fiorisca il dono della pace. La veglia di preghiera promossa dall'azione cattolica diocesana è stata un momento molto semplice e quanto intenso di intercessione per la pace nel mondo. Nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore risuonano forti le parole di Papa Francesco, oggi più che mai le nostre società necessitano di artigiani della pace che possono essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana. E se è vero che la pace è una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno, il primo passaggio da vivere è la personale conversione del cuore. Nonostante tutte le tensioni, ho una convinzione comune che la pace non dovesse essere mai in discussione. Oggi invece è più facile sentire che la pace e la violenza debbano essere presenti e attive. Più che la convinzione ideologica c'è anche questa che risorge. C'è la convinzione del fatto. Tutte le violenze che vengono compiute, tutti i sensi di dominio che portano alla violenza, tutti i sensi di affermazione di sé che portano alla violenza. Tutto questo è di oggi, non di ieri. C'è bisogno di cuori che vogliono davvero la pace, che vogliono davvero la fraternità tra gli uomini.